E' nato il suo rapporto con l'Aulivetti? E' nato nella maniera più casuale, più per me miracolosa, perché in quegli anni lì morivo di fame. E se non arrivava per caso, miracolosamente, questo invito da parte di Adriano Olivetti a partecipare era una specie di concorso tra giovani architetti italiani, perché stava aprendo la divisione elettronica dell'industria di Alivetti e aveva bisogno di un designer che lavorasse in quella zona.